Ciao, qui è Joe di Soluzione Attrazione. Il video di oggi parlo di un argomento risposto a una domanda che in realtà è piuttosto importante. Quindi, se tu sei interessato a migliorare in queste dinamiche e vuoi investire del denaro, ti consiglio di stare a vedere questo video. In quanto lo studente ci chiede Ciao, ho visto il video dove si parla dei corsi di soluzione e mi è stato molto utile nel capire che probabilmente avrei speso solo soldi, dato che non c'è appunto un periodo specifico affinché io possa risolvere i miei problemi. Penso che voglia dire un periodo abbastanza lungo. Comunque, ma in merito a questo la domanda che vorrei fare è il capire se un corso digitale sia meglio di un corso al vivo e il perché sia preferibile. A te non risposta, grazie mille. Per prima cosa, io non dico che il corso non vada bene. Dico semplicemente che il tempo che vi viene dato con le metodiche classiche di insegnamento è insufficiente e solo un programma a lungo termine vi può essere davvero utile. Qua significa, ragazzi, che in questi cazzo di corsi di un weekend, una settimana, qualche decina di ore, l'unica cosa che possono fare è realmente pomparvi lo state per farvi ottenere qualche risultato che non rimane attecchito. Questa è la verità, oramai la conoscono tutti in tutto il mondo. E poi, ragazzi, non è che non ci sia comunque gente a fronte di questo che non si va a fare i bootcamp. Però, di solito, quelli che sono super principianti e da soli non riescono a fare nulla, sono fra quelli che mollano. E quelli che riescono a sfruttare un bootcamp, se lo scelgono bene e se lo scelgono bene l'istruttore, sono quelli che in realtà arrivano lì che già riescono a fare qualcosa, ok? Che è una realtà che in Italia io non vedo, francamente, almeno ad oggi. E almeno per le persone che si erano presentate a me a chiedere dei corsi al vivo. Ora, cosa significa però lungo termine? Perché qualcuno potrebbe chiedere, giustamente. Allora, ragazzi, dipende da persona a persona, ok? Nel senso che ci sono persone che hanno bisogno di meno tempo, perché partono da una situazione meno svantaggiata e hanno una curva di apprendimento più veloce e altre che in realtà gliene serve di più. Però, francamente, secondo me un coach in serio dovrebbe portare fuori lo studente perlomeno tre volte a settimana, quattro ore al giorno, al giorno, a notte. Poi su questo si può dibattere. E quindi capite, ragazzi, che diventa una cosa estremamente costosa per tasche di pochi. All'estero c'è qualcuno che li fa questi percorsi. Di solito non sono quelli che sono gli istruttori mainstream, ma sono degli istruttori che solitamente sono abbastanza bravi comunque per passare il risultato, per deliver the goods, per far ottenere risultati allo studente, e se questo ha soldi per pagarli, in realtà può effettivamente ottenere nel lungo termine, e spendendo un sacco di soldi comunque un beneficio reale per quella che ha la sua vita. Un'altra cosa, ragazzi, che vi voglio dire è che, visto che il sottoscritto di corsi non ne fa e se ne farà in futuro saranno veramente pochissime, pochissime, apriamo una parentesi. Io, in realtà, non ero neanche partito con l'idea di mettermi a fare corsi al vivo come quegli otto bootcamp più il follow-up che ho fatto. Semplicemente li ho fatti perché, voglio dire, per il modo in cui mi propongo, aveva anche poco senso che non dimostrassi che potevo passare quelle che sono le mie skills anche su studenti, e poi vedrete quando adesso rilasceremo quelle che sono le testimonianze pian piano. Però, al di là di questo, il punto è che non so cosa vi frulli nella testa quando pensate di farli in Italia questi corsi, con quella che è per di più la qualità che c'è in Italia. Non c'è l'inglese, cioè non conoscete l'inglese, ho capito, ve lo studiate, ragazzi, cosa volete che vi dica? Voi potreste giustamente dire, sì, ma come io vedo la gente che mi mostra i risultati... Allora, ragazzi, prima cosa, ho già parlato di questo argomento. Voi dovete discernere fra risultati a lungo termine, che sono l'unica cosa che contano, e pompare lo state dello studente, e su 100 studenti, 4. Sembra magari neanche che li ottengono, ma sembra che li ottengono, e quindi ho qualcosa da mostrare, ok? O magari meno di 100, però il discorso, ragazzi, è che quando voi vi trovate a fare i conti con queste scuole che macinano gli studenti come sassi, è ovvio che, voglio dire, ti pompo lo state, ti porto in discoteca e faccio uscire il bacetto, la cosa, sui grandi numeri. Certo che accade sul ragazzo giusto, che è comunque una minoranza rispetto a quella che è la mole degli studenti, ma voi vedete solo la parte buona, ma facciamo anche finta che voi faceste parte di questa parte buona, cioè della parte che vi propongono come i casi di successo. Quello che voi dovete capire è che il caso di successo si valuta solo a lungo termine, non il bootcamp, il corso di una settimana, quello che è, perché la pura verità è che altrimenti voi semplicemente avete pagato 1.000, 2.000 o qualche cazzo euro per una limonata, che vi poterete fare a 14 anni, ok? Per non parlare di istruttori, ragazzi, io ho un mio studente che ha fatto il giro delle sette chiese, ora non voglio entrare particolarmente in dettagli, poi questo ovviamente è venuto a dire chi è, voglio dire, quello onesto, quello che ha la conoscenza, quello che ha interesse a passare la conoscenza ai studenti, eccetera eccetera, inutile che vi faccia indovinare chi è, ma questo mi raccontava che un ragazzo poco fa vergine era a tener corsi, e corsi che voglio dire, facciamo pagare 200 euro o meno di quello che ho chiesto io, siamo arrivati alla follia ragazzi qua in Italia, mi dispiace, ma è così, cioè poi voi siete liberissimi di continuare a farvi inculare da tutti i lati, da tutti gli orefizi, però tant'è, visto che mi chiedete, questa è la mia opinione. Poi ripeto ragazzi, secondo me è anche giusto che in questa industria gli studenti lo piglino un po' più al culo in Italia, nel senso che oramai all'estero è ben chiara quella che è la differenza, almeno se uno si prende il tempo di sbattersi, fra quelli che sono gli istruttori, le scuole serie e viceversa, ok? Quindi c'è gente, c'è un mercato di gente che è più credulona, mettiamola così, che viene inculata, e c'è un mercato di gente che si affida a persone che effettivamente li possono fare migliorare. In Italia purtroppo, essendo che siamo agli inizi con questa roba, e voi non andate sul campo, quindi non sperimentate neanche, non capite neanche cose buono versus cose cattivo, avete purtroppo bisogno di prenderlo un po' al culo, ma in realtà questa cosa qua è una cosa buona. Perché è una cosa buona? Perché in tutti, voglio dire, qualsiasi cosa noi dobbiamo imparare c'è una learning curve, no? Una curva di apprendimento. E spesso durante questa curva di apprendimento, all'inizio non è colpa di nessuno, si fanno errori, perché si è principianti, ok? Però, voglio dire, rispetto a tante aree, tutto sommato, voglio dire, chi vuole imparare a far seduzione, al massimo butterà i soldi in una vacanza, che chi se ne frega, è molto peggio toppare nello scegliersi il formatore nel business, piuttosto che, cazzo ne so, voi volete diventare enormi, vi prendete steroidi, immaginate il disastro che può succedere se, voglio dire, vi affidate alla persona sbagliata lì, ho fatto solo due esempi a caso, non voglio infilarmi troppo in questa diatriba. Quindi però, tutto sommato, vi devo anche dire che prenderlo al culo in questo processo di apprendimento è un qualcosa che fa bene. E quindi, chiudendo, perché i corsi digitali, ragazzi? Beh, molto semplicemente. Allora, io, ripeto, non sto dicendo che i corsi digitali sono la panacea di tutti i mali. Il corso digitale, ragazzi, è l'unica cosa che, se voi siete seri, vi dà la possibilità di imparare a quello che è il vostro ritmo, ok? Perché vi dico questo? Perché, purtroppo, una volta che voi uscite da questi corsi, tornate a quella che è la vostra realtà, ok? Voi, la prova del fuoco è la vostra realtà, non è il corso per vedere se siete, sarete efficaci, state migliorando, eccetera, eccetera. Quindi, in realtà, a cosa servono i corsi del VIO? Semplicemente a creare momentum. Ma non è che poi voi avete, come Matrix, appreso tutto con il cazzillo USB, che non mi ricordo come si chiama, vi è stata infusa la conoscenza. Voi, comunque, dovete continuare a studiare, dovrete continuare a studiare per un periodo di tempo molto prolungato. E non solo, dovete studiare a pezzettini. Cosa significa? Vi faccio un esempio. Diciamo che voi, per esempio, volete approcciare una ragazza ai giorno. Ci vuole un discreto periodo di tempo, se voi partite da zero, anche a fermarla efficacemente. E quindi, in realtà, voi, per esempio, se acquistate il mio corso Garpedien, dovrete andare un sacco di volte attraverso il primo modulo sull'approccio. stesso vale per la notte. Se state iniziando, vi ci vorrà un sacco di tempo a riuscire a entrare con la giusta energia e quindi ingaggiare immediatamente la ragazza. Questo per risultati ragazzi che vi rimangono incollati, non per risultati che vi pompano lo state, ma poi quando tornate a casa siete merdi, al bootcamp siete leoni, e poi siete pecore, una volta a casa. Quindi, ripeto ragazzi, io non sto dicendo stare un folle se vi dicessi che il videocorso è la soluzione unica, basta e fate quello e vi mando, insomma, vi benedico e vi mando in pace come il prete, il papa, quel cazzo che è. Non sto dicendo questo, sto solo dicendo che per le tasche della maggior parte delle persone, purtroppo, vuoi o non vuoi, il videocorso è l'unica cosa che può aiutare quelli che sono realmente motivati, il videocorso, il manuale, quello che ora dipende. Perché? Perché io non è, ragazzi, che vorrei precisarvelo, che quando vedete corsi enormi come Carpe Diem, Carpe Knight, tecniche di seduzione avanzate, eccetera, eccetera, non è che io li faccio enormi così perché mi piaccia divertirmi e stare centinaia di ore a parlare davanti alla telecamera, ma perché semplicemente quelle sono informazioni che vi servono, che vi vanno passate. Questa è solo la teoria. Mi spiegate come cazzo fa un coach, voglio dire, a infondervi la sua scienza in due giorni, una settimana? Non è possibile, ragazzi. Quindi quei risultati che voi vedete, questo, voglio dire, all'estero è un fenomeno che si sapeva già dieci anni fa, sono semplicemente dovuti a vi pompo lo state e voi performate meglio, poi tornate a casa e boom, amici, come prima, di nuovo al punto di partenza. Ripeto, quindi la mia soluzione per la maggior parte di voi, francamente, è di suggerirvi, di trovare la motivazione dentro voi stessi e intanto andare a cercare quelli che sono i miei video dove vi spiego come migliorare da soli, cioè come autoanalizzare quelle che sono le vostre interazioni, come utilizzare il metodo scientifico per analizzare le vostre interazioni passo passo, ogni volta aggiungendo un ingrediente nuovo, perché se voi ragazzi non imparate che da una parte c'è la teoria ma dall'altra voi dovrete necessariamente imparare a insegnarvi da soli, non ce la potete fare, nel senso, è chiaro che un corso vi dà un calcio in culo, però il calcio in culo dura poco e quando è finito, purtroppo, voi non avete gli strumenti per fare da soli e di conseguenza è brutto a dirsi perché sarebbe bello che uno semplicemente potesse andare a un corso e risolvere tutti i problemi ma non è così che funziona ragazzi, ma fatemi capire, voi cosa cazzo avete imparato durante la vostra vita che vi ha richiesto una settimana, qualcosa di valore o due giorni, qualcosa di valore nella vita che vi ha richiesto solo due giorni o una settimana per essere imparato, semplicemente non esiste ragazzi, vi ripeto poi non vi sto dicendo che non vi prendo per il culo su nulla, non vi prendo per il culo neanche su questo, non vi sto dicendo che il videocorso o il manuale sia la panacea di tutti i mali, vi sto semplicemente dicendo però che le limitazioni dei corsi sono enormi, hanno un prezzo che è spropositato rispetto al valore che vi viene dato i, come si dice, gli istruttori spesso sono già di serie B quelli che voglio dire ci mettono la faccia sulla scuola, quegli altri che poi vanno a ingaggiare non ne parliamo neanche quindi a conti fatti il corso in Italia è un qualcosa che io ammesso che non ne scan fuori nuovi player se in futuro ci sarà da parlare bene di qualcuno sicuramente non mi farò problemi a parlarne bene però in questo momento queste persone io francamente non le vedo e quindi insomma fate un po' le vostre considerazioni in ogni caso iscrivetevi al canale e veniteci a trovare su www.seduzioneattrazione.com grazie a tutti